Oggi forse è la tua miglior partita con la maglia bianca-azzurra quest'anno? Non lo so questo, io credo che è stata una partita interpretata bene da parte di tutta la squadra. Volevamo riscattarci da un martedì diciamo amaro, quello di Padova, e diciamo che la risposta è stata positiva sotto tutti i punti di vista. Grande prova della difesa, avete limitato al massimo gli attaccanti del Benevento, un tiro in porta con il gol, tra l'altro sul calcio di punizione di Viola e poi un colpo di testa di coda nel finale. Tutto qui il Benevento, insomma questa è una difesa che riesce a chiudere bene. Anche a Padova fino al novantesimo non avevate rischiato praticamente nulla. Io credo che è da premiare tutta la squadra perché se la difesa è forte la difesa parte dall'attacco, quindi diciamo che siamo aiutati da tutti quanti, quindi dalle mezze ali, dal centrocampo e anche dagli attaccanti. esterni e quindi speriamo di averlo nel DNA questa cosa qui, di aiutarci l'uno per l'altro perché solo così si possono raggiungere dei risultati importanti. Non è merito della difesa ma è merito di tutti quanti. Come ci si sente a guardare tutti dall'alto della classifica dal primo posto? Pescara non accadeva da sei anni, tu lo sai bene. Io credo che a questo, dopo sei partita, non devi accontentarti di guardare la classifica. O meglio, se la guardi con occhi per migliorarti, per avere la consapevolezza che sei una squadra forte e che non devi mollare mai, ok. Se la guardi per fare il fenomeno e per accontentarti vuol dire che stai sbagliando tutto.